Ciao a tutti, il mio nome è Ilaria e faccio parte dell'associazione dei ludosofici. I ludosofici sono un po' dispettosi, si divertono a fare infatti molte domande, domande che apparentemente sembrano molto semplici, anzi quasi banali, poi però portano a trovare delle risposte, risposte che possono trasformarsi in nuove domande. In certi casi risposte non ce ne sono, oppure se c'è una risposta, questa risposta quasi sicuramente, anzi sicuramente, si trasforma in una nuova domanda. Quindi oggi noi cominciamo da una domanda semplicissima. Tu chi sei? Ovvio, tu mi risponderai col tuo nome. Io sono Ilaria, tu sei Marco, lui è Gianfilippo. Eh no, io, stai attento, non ti ho chiesto qual è il tuo nome, ti ho chiesto, tu chi sei? Ecco, è una domanda che apre a un'infinità di risposte. Ad esempio possiamo, però, come prima cosa, iniziare a guardarci allo specchio, come hanno fatto degli artisti prima di noi. Possono, se si può guardare un'altra persona, oppure guardarsi allo specchio e farsi un altro ritratto. In questo caso vediamo il ritratto di una giovane ragazza, la dama del pollaiuolo. Ecco, se noi la osserviamo per bene, vediamo tante cose che ci possono aiutare a indagare chi è lei, a capire, cioè come lei si sente, come lei si percepisce, quali potrebbero essere alcuni tratti del suo carattere. Così proviamo a guardarla per bene, vediamo un'acconciatura molto curata, vediamo delle maniche di un tessuto molto particolare e anche prezioso. Quindi già capiamo che è una ragazza molto elegante, molto ben vestita. Poi però guardiamo bene lo sguardo, guardiamo questo sguardo che è come se guardasse lontano, in un punto imprecisato. si starà annoiando o starà riflettendo. E quindi possiamo già capire, che magari possiamo fare delle ipotesi ovviamente, non possiamo avere delle certezze, però possiamo pensare che stia appunto pensando a cosa voglia fare da grande. Oppure sta ascoltando i racconti noiosi di una vecchia zia, quindi magari si sta annoiando e sta cercando in qualche modo di vagare con la mente per trovare immagini che la possano divertire. E quindi in questo modo, guardando una persona, oppure anche guardando l'aspetto esteriore di una persona, guardando lo sguardo, guardando l'espressione, già possiamo capire tante cose. Però possiamo anche fare un altro esperimento, ossia possiamo provare a immaginare come gli altri ci vedono. Ad esempio, in questo libro c'è una simpatica caprezza, Elena, che ha una grandissima casa, una grande casa con nove stante e ha ospita per l'estate e tanti suoi amici. Prima che questi amici arrivino, lei prepara le diverse stante, cercando di indovinare i gusti di ciascuno di loro in base a quelli che sono i tratti del principale del carattere oppure la professione. E così, ad esempio, prepara per una maglialina molto romantica una camera tutta rosa e cuore. Quando però questi amici arrivano, occupano le stanze, ma in maniera totalmente diversa rispetto a quello che Elena aveva immaginato. Quindi Elena aveva preparato tutta una serie di cose che, secondo lei, avrebbero reso il soggiorno dei suoi amici più piacevole, pensando però a quello che lei pensava che a loro sarebbe piaciuto. Poi loro invece hanno scelto tutt'altro. Quindi vedete anche come non solo l'aspetto esteriore racconta sì di quello che si è interiormente, ma appunto si possono fare delle ipotesi, non si può avere la certezza. E poi anche di come gli altri ci possono vedere, ma in realtà questa immagine che gli altri hanno di noi a volte non corrisponde a come non ci sentiamo. Magari solo in quel momento, ma comunque non ci corrisponde. Oppure pensiamo anche all'essere maschio-femmina. Spesso ci trattano in maniera diversa. Ad esempio si dà per scontato che alle bambine piaccia sempre rosa, ai bambini in più. Ma chi l'ha detto? Tanto una volta non era così. E poi c'è un altro libro bellissimo di Bianca Pizzorno, che si chiama Extraterrestre alle Pari, e racconta di questo ragazzo, o ragazza, non si sa, fa proprio un po' questa la questione, che viene da questo pianeta, da Deneva. Si chiama Mo. Quando arriva sulla Terra tutti vogliono sapere se è maschio-femmina, in maniera tale da comprare i giochi, i giochi, oppure per comprargli i vestiti. E lui non capisce qual è il problema, dice, vabbè, ma io posso giocare sia con le macchine sia con le bambole, io posso vestirmi sia di giallo, sia di blu, sia di rosa, chi se ne prega. E invece no, qua sulla Terra tutti volevano sapere, appunto, cosa fosse, in maniera tale da trattarlo in maniera diversa. Ecco, anche questo è un trattamento, un modo in cui gli altri ci vedono, che però non corrisponde necessariamente a quello che è il nostro, a chi siamo, per l'appunto, alla nostra domanda, a rispondere alla nostra domanda. Sembra quasi che noi siamo un grande labirinto, un labirinto intricato, che anche noi non conosciamo, e che anche noi abbiamo bisogno di esplorare, sbagliare magari strada, cercare, tornare indietro al punto di partenza per poi ripartire. Ed è un viaggio lunghissimo, infinito, che appunto durerà tutta la vita e a cui non c'è risposta come abbiamo visto, perché per l'appunto, in certi momenti, potremmo essere molto sicuri di quello che siamo, in altri momenti, molto meno, in certi momenti siamo, siamo e allo stesso tempo non siamo qualcosa. Ecco, ed è proprio da lì che è iniziata il nostro viaggio nella filosofia, perché appunto qualcosa come noi può essere e allo stesso tempo non essere. Ecco, spero che siate molto confusi, perché è da qui che comincia appunto la meraviglia del nostro vagabondare filosofico, farsi delle domande e poi cominciare a camminare. Un cammino che come vedete può avere molte strade, strade che non si connettono sempre semplicemente tra di loro, ma che è bello anche semplicemente smontare per vedere un po' dove si potrebbe capitare e quindi meravigliarsi insieme. Ve l'avevo detto che siamo molto rispettosi e quindi buon viaggio in questo labirinto. Buongiorno da Elena e Silvia della Biblioteca Delfini di Modena. Oggi abbiamo alcune proposte di lettura sul tema Incontrare l'infinito e siamo partiti da due domande. Che cos'è un ritratto? Che cos'è un autoritratto? Il modo per scoprirlo è guardare e guardarsi, guardare noi stessi per scoprire chi siamo. I libri che vi proponiamo sono Lo specchio di Henry. Henry è un personaggio pittore che vuole scoprire il modo per dipingere uno specchio in cui trovare se stesso. Ci riuscirà? E poi abbiamo Ben, un coniglio molto vivace, ma diverso dagli altri conigli, che cercherà di scoprire chi è facendosi aiutare dagli altri amici animali. E poi c'è Gerald. Gerald è uno stambecco e vive con il suo branco. Gli altri suoi simili sono però molto più combattivi, lottano, amano la violenza, mentre Gerald scopre di essere diverso. Per lui l'importante è la gentilezza e quindi questo suo essere un po' diverso dagli altri gli farà venire delle domande sulla sua vera identità. Anche la storia di essere me è la storia di un gorilla, un gorilla ricco, famoso, di successo, che vive una vita bellissima. Però la vera natura di un gorilla non è questa. Lui è abituato a spatti incontaminati, spatti aperti, e quindi si troverà di fronte a una scelta. Continuare una vita piacevole e di successo, ma non essendo mai se stesso, o invece tornare alla sua vera natura. Infine abbiamo l'ultimo libro da presentarvi, Che cos'è un bambino? Dopo tutte queste domande, forse anche voi avrete pensato, ma quindi chi siamo? Che cos'è un bambino? Questo libro è il vostro. Ci sono tantissimi ritratti di bambini e forse tra questi troverete anche il vostro. Speriamo che questi libri vi abbiano incuriosito e oltre a questi ne potrete cercare tantissimi altri nelle biblioteche comunali di Modena. Un caro saluto, ciao! Grazie. 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 Grazie.